Armato e volto travisato aveva preso d'assalto prima una pizzeria a taglio in zona Trento Trieste e pochi giorni dopo aveva replicato la stessa scena in un supermercato a pochi metri di distanza. Adesso è finito in manette un 25enne romeno ritenuto l'autore delle due rapine a mano armata. Ad individuarlo ed arrestarlo sono stati gli agenti della squadra mobile di Arezzo guidata da Francesco Morselli. La prima rapina risale allo scorso 20 novembre quando l'uomo incappucciato ed armato di pistola attorno alle 20 era entrato in una pizzeria d'asporto del centro facendosi consegnare l'incasso, circa 60 euro, un magro bottino ma tanta la paura della ragazza che si era vista puntare in faccia alla pistola. E' entrato un individuo incappucciato battendo la mano sul tavolo molto agitato, la signorina è rientrata nel vano vendita, nell'ambiente vendita perché pensava di trovarsi davanti un cliente invece si è trovato malauguratamente un individuo che sotto minaccia di pistola gli diceva di darle tutto l'intero incasso della serata. Erano 10 alle 8, come ripeto, un grande spavento per la signorina. Il 10 dicembre il secondo colpo, questa volta al supermercato Penny Market di via Castellucci. Il bandito era entrato in azione all'orario di chiusura attorno alle 20 e 30 e con la pistola in pugna aveva intimato un cassiere di consegnare l'incasso della giornata, 700 euro circa, e poi si era dato alla fuga. Ieri sera la squadra mobile di Arezzo ha chiuso il cerchio attorno all'uomo. Una volta individuata la sua abitazione è stata svolta una perquisizione. In casa è stata trovata l'arma utilizzata per le rapine, una scacciacani e le due felpe utilizzate per mettere a segno i colpi. Sul comodino inoltre sono state trovate tracce anche di cocaina. L'uomo, un giovane disoccupato romeno con segnalazioni come assuntore di sostanze stupefacenti, adesso si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.